Il Comitato Lungomare Canepa è questa mattina in piazza per manifestare per la Valpolcevera e perché il Lungomare da ieri è diventata davvero un'autostrada a cinque corsie. Sì, siamo qui solidali con la Valpolcevera, con tutta la popolazione, con gli sfollati, con i commercianti che hanno perso lavoro, che hanno perso opportunità di guadagno per le loro famiglie. Siamo qui come Comitato Lungomare Canepa perché abbiamo un'ulteriore autostrada sotto le case che purtroppo ci è stata imposta da questa tragedia. Noi chiediamo però una vivibilità e poter costruire le barriere fonassorbenti per dare quella salute che da questa tragedia è venuta a mancare. Un'autostrada sotto le case con tutti i mezzi che passano di continuo, con una marea di mezzi che passano sotto le case, noi chiediamo appunto di costruire per la salute della popolazione questa barriera fonassorbente.